Siamo con il neoeletto sindaco di FOMO, Mario Landrescina. Com'è stata la sua prima giornata da sindaco? Praticamente senza interruzione dalla nottata, quindi con un grande entusiasmo. Abbiamo soltanto anche una giornata piena di incontri, di dichiarazioni inevitabili, ma anche di piacevoli scambi di opinione con alcuni di prezzi a colore che sono recato di forza delle sezioni, diciamo, di rito, i primi contatti, ho ringraziato tutte le persone che hanno lavorato in questa giornata elettorale che ho incontrato, perché grazie a loro abbiamo comunque tutti potuto ottenere dei risultati, ho fatto anche delle conoscenze nuove che non ero prospetta di fare, ho comesso intendo mantenerlo, soprattutto di portare in maniera strutturata i più i detti. Allora a casa, infatti senza essere andato a dormire, ho ricevuto il più ritroffato dei cittadini che lamentavano qualche problema, mettiamola così, questo è stato un corretto per certi versi interessanti e stimolante, peraltro è un po' preoccupante, perché se telefonano a casa a migliaia sarà difficile potergli dare l'entra, bisogna strutturare un percorso dove trovino ascolto e dove poi trovino risposta, ma sono sicuro che con la macchina comunale troveremo le dimensioni giuste per farlo.